27 gennaio il giorno della memoria dedicato al ricordo delle vittime dell'olocausto abbiamo deciso di celebrarlo in modo un po particolare alle mie spalle vedete infatti la palazzina siva che fu sede dell'omonima fabbrica di vernici il cui laboratorio era diretto proprio da primo levi dalla scorsa estate in questo edificio è ospitato match museo della chimica il primo museo d'europa interattivo dedicato alla chimica e finalizzato alla didattica per bambini e adolescenti e allora oggi sarò i vostri occhi e le vostre orecchie alla scoperta di questo presidio della divulgazione nel ricordo di primo levi ecco stiamo entrando e ad aspettarmi c'è alessandra benvenuto grazie per illustrarci e farci girare questo questo bel museo questo museo molto interattivo ma partiamo da un luogo particolare alessandra dove ci troviamo ci troviamo nell'ufficio che era di primo levi perché primo levi lavoro qua alla siva dal 1948 fino al 1977 è importante questo questo studio perché noi diamo grande risalto alla figura di primo levi come chimico che lavoro nei laboratori che dove oggi abbiamo il museo della chimica ecco puoi descriverci primo levi appunto nella sua professionalità che poi anche nella sua testimonianza viene molto peso al suo mestiere che cosa possiamo dire di questa figura possiamo dire che era una figura che ci steneva tantissimo la divulgazione scientifica che quello che noi facciamo ogni giorno in questo museo e ha scritto degli importanti testi che sono considerati in ambiente internazionale come dei testi veramente molto importanti come la chiave a stella e il sistema periodico certo ecco questo immagino sia una parte significativa no per il museo quale quali sono un po le reazioni delle persone che visitano questo luogo così suggestivo possiamo dire pensando che qui c'era proprio il suo ufficio abbiamo diverse persone che visitano il nostro museo apposta per venire a vedere un luogo dedicato alla memoria di primo levi come chimico e infatti abbiamo anche dei dei visitatori stranieri che sono venuti apposta per avere un riscontro di quello che fu il lo studio di primo levi alessandra qui siamo nel primo ambiente dei quattro di cui è composto match dove ci troviamo allora ci troviamo nella parte introduttiva del museo dove ci sono due elementi fondamentali per iniziare a parlare di chimica abbiamo una bilancia bracci che simboleggia un po il lavoro di la oasi è e poi abbiamo una tavola periodica del tutto interattiva composta da dei cubi in cui parliamo appunto di come sono categorizzati gli elementi della tavola periodica siamo molto vicini a dove eravamo prima ma questa è un'altra sezione del museo esatto qua parliamo degli stati della materia abbiamo diversi exhibit che esemplificano gli stati della materia la cosa importante di questo museo è osservare toccare e sperimentare quindi anche un semplice exhibit come può essere questo con un tubo di plexiglass ci dà l'idea di come si muovono le molecole all'interno dei vari stati della materia qui abbiamo anche altri exhibit che parlano di questo argomento e la cosa più importante è divertirsi mentre si sperimenta Alessandra vedo che insomma in questo museo vi piacciono i tubi di plexiglass ne abbiamo qui un certo numero però per dimostrare qualcos'altro che cosa cosa si fa qui ecco cosa si impara allora in questo exhibit parliamo di viscosità anche in questo caso un argomento che potrebbe sembrare ostico e difficile per i bambini noi vogliamo renderlo accessibile e divertente quindi la parte ludica è sempre molto importante per lasciare il concetto scientifico e far apprendere divertendosi i bambini ragazzi ma anche gli adulti in questo caso qua abbiamo dei tubi di plexiglass con diversi liquidi all'interno abbiamo la glicerina abbiamo l'olio d'oliva l'acqua e l'acqua saponata abbiamo delle pompe che generano delle bolle e vediamo la reazione e come si muovono all'interno di un fluido a diversa viscosità e così con diciamo con l'esperienza visiva e pratica è molto più semplice a prendere un concetto scientifico come la viscosità allora questa è l'acqua qui abbiamo l'olio vedete la differenza e poi la glicerina con un'unica grande bolla ecco ma è compatta esatto a viscosità crescente e continuiamo con i tubi ce n'è qua uno solo al momento è vuoto esatto uno solo al momento è vuoto che cos'è abbiamo una parte dedicata più ai processi biochimici abbiamo la parte del dna e abbiamo quello che noi chiamiamo l'uomo d'acqua l'uomo d'acqua è un exhibit che attraverso un modello statistico un piccolo algoritmo calcola in base all'età e al peso quanta acqua conteniamo nel nostro corpo facciamo una prova così vediamo subito come funziona prometto di non inquadrare quanti anni ho ma non c'è nessuna galanteria ok adesso lo calcola e nel tubo vedremo io ho circa 30,6 litri all'interno del mio corpo ed è molto esemplificativo vedere quante perché quando si cita il numero non sempre si riesce a visualizzare quanta acqua è veramente questi sono 30,6 litri che io contengo nel mio corpo un altro elemento che si potrebbe tenere conto in questo tipo di modellizzazione è il fatto di avere un uomo o una donna perché a seconda del genere si ha più o meno acqua si ritiene più o meno acqua nel proprio corpo infatti gli uomini hanno leggermente più acqua delle donne all'interno del corpo ma la visita a Mac non finisce qui perché questo museo ci riserva ancora uno spazio del tutto particolare andiamo a scoprirlo eccoci qua al chemistry bar abbiamo il nostro barman Andrea ciao Andrea benvenuti benvenuti al chemistry bar un bar un po' particolare qua non si mangia non si beve niente ma vengono servite delle reazioni chimiche se volete ve ne faccio vedere una eh sì sarebbe sarebbe bellissimo so che avete anche un menù ma io lascio fare allo chef in questo caso al barman molto bene allora vi faccio vedere un esperimento un po' scoppiettante prendo tutto quanto il necessario e ci rimettiamo qua allora per fare questo esperimento usiamo un portarullino ormai non li usiamo più tanto quindi abbiamo deciso di dargli una seconda vita aggiungiamo un po' d'acqua all'interno del portarullino e poi velocemente dobbiamo inserire un po' di digestivo e chiudere aspettiamo ecco l'esplosione l'esplosione l'avevamo detto cosa succede qua dentro? dentro al digestivo ci sono degli acidi e delle basi in particolare di solito abbiamo bicarbonato e alcuni acidi come l'acido citrico quando si incontrano dentro l'acqua reagiscono e formano un sacco di anidride carbonica tutte le bollicine che vediamo formarsi anche quando beviamo il digestivo la pressione quindi all'interno del portarullino aumenta tantissimo tanto da poi far scoppiare il tappo ecco come penso che questa sia una delle parti più divertenti no? per i ragazzi che vengono a visitare Match quali sono un po' le loro reazioni, le loro comportamenti, cosa fanno qui? in particolare con questo la paura riusciamo sempre a stupirli con queste piccole reazioni questo appunto è solo uno dei nostri cocktail presenti all'interno del chemistry bar e tutti quanti permettono ai ragazzi e anche agli adulti di sperimentare, provare e stupirsi proprio delle reazioni e delle cose che capitano anche con ingredienti molto banali che possiamo trovare semplicemente in casa abbiamo parlato appunto del museo però vorrei dedicare un attimo l'attenzione al pubblico di Match insomma che pubblico è e come si approccia e come reagisce a tutto quello che gli mostrate? allora notiamo un grande entusiasmo da parte delle famiglie ma anche delle scuole abbiamo una grandissima affluenza di scuole e sia gli insegnanti che gli studenti sono veramente molto contenti di questo nuovo approccio alla scienza un cosa che ci ha su molto sorpreso è l'entusiasmo delle famiglie non solo dalla parte dei bambini ma dalla parte degli adulti perché anche loro amano molto questo nuovo approccio alla scienza e sono talvolta anche più curiosi dei bambini stessi quindi siamo riusciti a racchiudere veramente un pubblico molto vasto dai più piccoli ai più grandi ciao 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 ciao